eccoci ciao bentornati anche oggi vi faccio vedere tre idee regalo qualcuno avete già visto nel nostro calendario dell'avvento nelle storie nei post che escono quotidianamente oggi vi mostro tre idee regalo a base di tisane in tre versioni leggermente diverse più una comunicazione di servizio visto che domani ci state scrivendo in tanti domani è l'8 di dicembre in tanti ci state scrivendo che per sapere che orari facciamo domani in teoria essendo festa abbiamo modificato un pochino l'orario visto che ci state chiedendo siamo aperti nel pomeriggio quindi teniamo aperto dalle 15 alle 18 vi aspettiamo per fare i vostri regali di natale e intanto come tutti i giorni vi mostro nel dettaglio alcune delle idee che stanno uscendo nel nostro calendario dell'avvento qui ho in mano proprio il cofanetto che abbiamo fotografato l'altro giorno questo esiste già di per sé in tre versioni è un'idea regalo proprio per gli amanti delle tisane quest'anno poi nella vita si è superata cofanetto meraviglioso cartoncino a me fa impazzire il fatto che si è accalamitato che si chiude è proprio un decoro bellissimo quindi si può utilizzare poi come porta gioie come svuota tasche per tenere le ricette in cucina esiste in tre colorazioni diverse questo sul rosso contiene la tisana relax il miele di sul e un olio essenziale l'olio essenziale in questo caso è l'olio essenziale di arancio dolce che potete utilizzare o per arricchire la vostra tisana quindi miscelato con una punta di miele oppure anche nelle lampade nei diffusori per l'aromaterapia proprio per le proprietà rilassanti dell'arancio quindi questa è la prima versione proprio tutta relax poi esiste in altri due colori nel colore blu sempre con la scatolina proprio calamitata bellissima con la tisana bonnuit in questo caso il miele ha sempre una nota rilassante anche qui il miele di tiglio e l'olio essenziale è un olio essenziale di limone l'olio essenziale di limone anche in questo caso si può aggiungere alla tisana oppure in tanti spesso ce lo chiedete da aggiungere alle creme con l'effetto schiarente piuttosto che chi fa i detersi di fatti in casa perché è un ottimo sgrassatore o aiuta a togliere gli odori dal frigorifero quindi l'olio essenziale ha mille usi e ci sono mille ricette avevamo fatto anche dei video proprio sull'utilizzo degli oli essenziali in diversi ambiti poi a gennaio magari ripeteremo visto che vi era piaciuto come argomento quindi in questo caso non l'essenziale alimentare quindi si può aggiungere con il miele sempre la sua tisana buonanotte oppure la terza versione del cofanetto cambia il gusto della tisana del miele dell'essenza in questo caso il colore del cofanetto è verde e all'interno troviamo la tisana gioia di vita la tisana gioia di vita con abbinato il miele di coriandolo e l'essenza di mandarino anche qui sempre l'olio uso alimentare quindi potete utilizzarlo pescando un cucchiaino di miele si aggiunge una goccia di olio essenziale e poi si utilizza proprio per dolcificare la tisana e per renderla ancora più aromatica oppure nelle lampade ultrasuoni negli ambienti potete utilizzarlo proprio anche nella vasca da bagno per arricchire un bagno doccia una crema e renderla ancora più profumata quindi questi sono cofanetti proprio per amanti delle tisane con il kit in versione tisana miele e essenza un'altra proposta sempre con la base di tisana che sta piacendo tantissimo è il cofanetto buonanotte in questo caso sempre la tisana bonnuit come quella che trovate nel cofanetto blu sia vestita proprio di natale quindi c'è la slitta trainata dalle renne di babbo natale e in associazione in questo caso invece che il miele c'è lo spray per il cuscino quindi uno spray sempre a base di essenze che si può utilizzare per da vaporizzare sulle lenzuola sul cuscino nell'ambiente proprio con un effetto proprio rilassante quindi il cofanetto proprio in veste natalizia e sono i due prodotti amatissimi quindi spray per il cuscino e tisana piacciono tantissimo sono la tisana penso che sia la più venduta della linea nea vita la bonnuit è proprio buonissima deliziosa comoda in bustine quindi anche per chi non è pratico con filtri nicolini sono quei bellissimi filtri scrigno piramidali quindi a pezzettoni grossi bella saporita bella ricca ma con i pezzetti di mela quindi anche già dolcissima buona con il suo spray per il cuscino quindi se conoscete qualcuno un po nervoso un po stressato un po che fa fatica a prendere sonno a dormire questo è un'ottima idea come regalo allora il cofanetto così spray e tisana viene 17 90 mentre quelli che vi ho mostrato prima così vi dico anche i prezzi perché se non mi dimentico questi vengono 27 90 invece nella versione tisana miele e olio essenziale vi avevo promesso tre kit quindi vi faccio vedere una versione con tisana miele ed essenza la tisana oppure abbinata allo spray per il cuscino la terza proposta è tisana abbinata ad una tazza poi anche di questa versione ne abbiamo diverse confezioni diversi gusti di tisane diverse grafiche proprio per le tazze c'è la versione autunnale la versione della linea inverno con tre colori invece il colore azzurro verde o rosa c'è la versione della linea con le stesse scatole calamitate della linea chip chat sempre con l'abbinamento tisana e tazza quindi qua possiamo scegliere tra tantissimi gusti di tisana e tra tantissimi colori e messaggi che trovate proprio sulla tazza sulla tisaniera e in tutte queste versioni la tisana la tazza contiene già all'interno anche il suo filtro quindi si può utilizzare poi sia con le tisane sfuse sia anche con le bustine nel senso che il coperchio aiuta a tenere anche in caldo la tisana quindi togliete il filtro utilizzate la classica bustina se siete più comodi oppure per chi ama proprio le tisane pezzettoni anche quelle proprio vere sfuse o personalizzate perché sapete che noi abbiamo 150 piante per farvi le tisane personalizzate si può associare proprio la tazza così con scegliendo i vari gusti delle tisane anche quindi le scatole proprio meravigliose bellissime con la patellina che si chiude calamitata quindi si può poi utilizzare come per riporre come porta gioie come svuota tasche o proprio proprio riciclandola per mettere porta caramelle tantissime cose anche a casa e sono veramente ogni anno una più bella dell'altra quindi con il gusto in questo caso nella linea cecciata arancione c'è la tisana bucce d'arancia nella versione autunnale c'è melagrana e arancia se no c'è con la linea fragole panna bacche di bosco stella d'inverno quindi dalle speziate alle dolci proprio per ogni gusto scegliendo appunto tra i vari colori sia di tazze sia di scatole sia proprio di gusti di tè e tisane quindi oggi vi ho dato queste tre idee proprio per gli amanti di tè e tisane quindi adesso poi con il freddo sorseggiare una bella tisana calda colazione a merenda o in ufficio direi che ogni momento è quello giusto questa è proprio una bellissima idea oppure la versione per chi sapete che ha bisogno di relax e di dormire invece la tisana abbinata allo spray per il sonno allo spray per il cuscino per dormire poi vi dicevo vi aspetto domani domani pomeriggio siamo aperti dalle 15 alle 18 vi aspetto per i vostri regali natale oppure sapete che siamo sempre disponibili anche su whatsapp quindi ci potete scrivere il numero è 388 88 45 700 se ci scrivete vi diamo le foto le disponibilità i prezzi se magari avete freddo non avete voglia di uscire di casa o siete in ufficio avete proprio cinque minuti di pausa ci scrivete ci mettiamo d'accordo anche per una videochiamata vi facciamo preparare vi prepariamo già tutte le confezioni vi prepariamo già tutto pronto così passate pronti ritirate i vostri regali e via intanto vi ringrazio ci vediamo quindi domani pomeriggio per chi passa in negozio o se no sapete che fino a natale ci trovate sempre fino al 24 siamo qui e ci rivediamo con la prossima diretta venerdì in pausa franzo grazie a tutti ciao buona giornata